La coesione nazionale è un valore importantissimo che si declina sui territori anche con la coesione fra le istituzioni e tra tutti i livelli di governo. Le prefetture hanno questo come una delle missioni più importanti, di garantire che tutti i livelli di governo operino soprattutto in una fase di emergenza e di crisi con unità di intenti, nell'interesse del benessere di tutti i cittadini. Grazie a tutti.